Si allarga l'inchiesta sulle presunte molestie alle attrici italiane, dopo Giuseppe Tornatore stavolta essere chiamato in causa è Fausto Brizzi, regista di pellicole di grande successo come Notte prima degli esami e Maschi contro femmine. Nei suoi confronti sarebbero giunte ipotetiche segnalazioni di molestie. Fausto Brizzi, tramite una lettera e una nota diffusa dal suo legale, ha dichiarato Posso solo affermare con serenità e sin da ora che mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consensienti o condivisi. Per questo escludo categoricamente di aver conferito mandato legale per trattare il risarcimento del danno in favore di presunte vittime. Procederò pertanto in ogni opportuna sede nei confronti di chiunque abbia affermato e affermi il contrario. In via precauzionale e per evitare strumentalizzazioni ho sospeso tutte le mie attività lavorative ed imprenditoriali. Chiedo a tutti il massimo rispetto della privacy, della mia famiglia e in particolare di mia moglie. In difesa di Brizzi si sono schierate note attrici come Nancy Brilli e Cristiana Capotondi, ma non è tardata ad arrivare anche, tramite Twitter, la reazione di Asia Argento. Querelaci tutte, non ci fai paura.